federigo tozzi l'amore novelle campagna romana caro cavacchioli tu mi chiedi qualche spunto autobiografico ti ringrazio sinceramente ma non a bocco tutt'al più posso raccontare a te e a pochi lettori come ho passato a roma la scorsa estate torno ormai molto di rado in toscana e sempre per pochi giorni perciò insieme con qualche amico quando non piglio la bicicletta cerco di respirare all'aria aperta e non mi lascio mai alloppiare dalla vita cittadina questa estate andavamo a maccarese tra roma e civita vecchia bisognava alzarsi dal letto prima di giorno e alla stazione termini mentre compravamo il biglietto vedevamo alla luce ancora incerta stormi di ragazze che invece sceglievano la dispoli o santa marinella sartine dattilografe impiegate passavano a coppie o a branchetti di rado accompagnate dai parenti portando in mano l'asciugatoio e la biancheria per il bagno ce ne erano di anemiche ma anche di quelle belloce o belle addirittura e noi le seguivamo con gli occhi e con una voglia matta ad attaccare discorso o portarne due o tre con noi di quelle più piacevoli e benevole orio vergani allora faceva sempre la proposta di distribuire per la volta prossima parecchi foglietti dove fosse stampato a modo di pubblicità che i bagni di maccarese erano preferibili anche per la salute a quelli di qualunque altra spiaggia e intanto da bel giovane che è si ficcava in mezzo alle ragazze per capire se ce ne fossero disposte a farsi tenere compagnia ma saliti in treno non ci si pensava più ed era meglio a scendere alla stazione di maccarese eravamo noi soli salvo qualche buttero e dopo aver bevuto un bicchierino di acquavite che ci levava gli ultimi rimasugli del sonno ci mettevamo in cammino l'aria era grossa da tagliarsi con il coltello e la strada lunga ma noi prendevamo attraverso i campi per una scorciatoia che si vedeva dalla stazione fino a una macchia dove si interna perché l'erba non fa in tempo a rinascervi e la terra si spacca in un modo che a non stare attenti c'entrano i tacchi dentro le interminabili file degli olmi più neri che verdi si incrociano da ogni parte chiudendo in mezzo le paludi dentro le quali i giunchi selvatici sono così fitti da non poterci si muovere finalmente quando la stanchezza e il sudore cominciavano a dar noia e a scoraggiare tra i ginepri enormi si sentiva il tuono largo quasi sinistro del mare riprendevamo forza e barcollando sull'arena troppo asciutta che faceva inciampare e affondare fino ai polpacci delle gambe andavamo avanti alla fine si vedeva il mare una riga turchina e immobile che sembrava più alta di noi l'aria si faceva respirabile e ci guardavamo lietamente facendo a chi arrivava prima andavamo sotto una specie di capanna tutta aperta costruita con quattro sostegni di legno sorreggenti una copertura di frasche secche io mi spogliavo subito e mi piaceva sentire quel brivido ghiaccio su tutta la persona michele abramic apriva i cartocci delle provviste e cavava fuori da un tascapana militare un nuovo sodo per ciascuno io facevo con le mani una buca nella sabbia e vi mettevo dentro fino alla bocca i fiaschi del chianti l'abramic mi guardava ridendo pronto però a sgridarmi se non facevo le cose per bene e l'ultima manciatina di terra che ricopriva il chianti al fresco la dava sempre lui perché nessuno lo avrebbe contentato senza michele abramic direttore del museo di aquileia non sono mai andato a maccarese con noi oltre allo scultore ercole drei e a orio vergani che forse il più intelligente tra i suoi coetanei di vent'anni è venuto una volta stefano pirandello il drei si fidava un poco troppo dei suoi nervi romagnoli e la sera sghignazzava meno della mattina il vergani non voleva rinunciare nemmeno la notte innanzi ai caffè e alle amanti e il sole gli faceva girare subito la testa qualche volta è venuto a caccia alessandro salvini che per quel giorno non si ricordava di essere attore cinematografico e drammatico ma torniamo in carreggiata la spiaggia completamente deserta cominciava già ad essere calda e le onde scintillavano io completamente nudo facevo una corsa di un mezzo chilometro e poi tornavo addietro e dicevano che assomigliavo a un fauno piuttosto grasso l'abramic aveva già messo insieme un mucchietto di fuscelli e di legni e li accendeva in modo che il fumo portato dal vento sotto il riparo di frasche ci assicurava di più che nessuna zanzara ci avrebbe punto regalandoci la malaria ad una certa ora il sole faceva biancheggiare quasi splendere addirittura il caseggiato nuovo di ladispoli e le nebbie uscivano di fra gli olmi e la grande pineta solitaria lunga fra i cinque e i sette chilometri reso sempre di più impaziente da quella meravigliosa solitudine entravo nell'acqua l'abramic aspettava scrupolosamente che fossero le undici dopo il bagno facevamo per lo più affiancati insieme un'altra corsa che bastava ad asciugarci e poi ci sdraiavamo in terra per mangiare e siccome l'appetito era sempre pronto bisognava mandare giù i bocconi senza masticare troppo perché si faceva a chi era più lesto prima veniva il prosciutto crudo poi quello cotto poi le olive in un batter d'occhio spariva tutto e non era difficile che le cinque dita aperte d'uno dovessero contendere con quelle d'un altro l'ultima fetta o l'ultima oliva qualche volta cucinavamo da noi il prosciutto facendolo bollire dentro un catinaccio scrostato che l'abramic aveva preso dentro una capanna di certi pescatori intanto rapidamente il vino calava l'abramic apriva le scatole delle acciughe in salsa piccante e io ghiotto di quella broda oliosa quando erano nuotate me le scolavo in bocca o vi inzuppavo un pezzo di pane dentro che a ricavarlo dovevo anche bestemmiare non bisognava muoversi senza precauzione perché il vento copriva subito di sabbia ogni cosa e allora si sentiva scricchiolare sotto i denti alla frutta l'appetito cominciava a calmarsi ma mi ricordo come in mancanza d'altro succiavamo lungamente anche i noccioli rossi delle pesche o finivamo con l'inghiottire le bucce delle mele e delle pere allora ricorrevamo alla distribuzione delle sigarette ma già la stanchezza e il caldo ci facevano venire sonno ed era un godimento solenne quello di chiudere a poco a poco gli occhi e di chinare la testa grave e avvinata ma a trovare una buona posizione non era facile senza indolenzirsi o i fianchi o le braccia e poi a mettersi bocconi come sarebbe stato più comodo non si poteva respirare perché entrava la sabbia in bocca e dentro le ciglia alla fine il sonno metteva da sé le cose in pace e dormivamo anche tre ore di seguito guai a quello che si destava ultimo perché si sentiva aggiungere un calcio sulle chiappe qualche volta aprendo sì e no gli occhi vedevamo i branchi delle bufale o dei bovi passare rasente a noi soffermandosi a fiutare e a curiosare le bufale con gli occhi neri e acuti avevano un'insistenza che non ci piaceva affatto ma il sonno e il vino non ci consentivano di alzarci da terra e perciò non abbiamo mai avuto paura anche le vipere non mancano anzi quelle di maccarese sono famose per dire la verità non sono mai venute dove eravamo noi con gli occhi sempre intontiti guardavo il mare più turchino e più bello e vedevo stuoli di alcioni alzarsi a volo come se fossero stati scossi dalle onde sempre uguali e disuguali sopra le macchie volavano invece corvi e falchi alla foce dell'arrone dove al tempo degli etruschi tanto per fare un poco di storia era la città di fregene e dove l'aria e le fiamme del calore ora brulicavano insieme si vedeva un polverio enorme guardando meglio si capiva che vi andavano a bere le bufale e i bovi prima che il sole tramontasse facevamo un altro bagno e se il mare era molto mosso stavamo a prendere i colpi delle onde sulle spalle e sulla nuca tenendoci a catena per non essere travolti tuttavia ercole drei un giorno corse lo stesso il pericolo di affogare verso sera quando un'umidità calda e pesante cominciava a venire da tutte le parti e la spiaggia non brillava più ci rivestivamo e tornavamo verso la stazione e siccome era già l'ora di cena entravamo dentro una dispensa dietro il castello barocco di san giorgio l'arrone che viene dal lago di bracciano sembrava bianco da quanti moscerini vi stavano sopra se passava qualche bufala anche sopra essa s'aggirava una nuvola di moscerini e gli eucalipti odoravano lungo la strada dove si inciampava a motivo della polvere alta e ammucchiata dalle ruote dei carri a quel tempo a porto san giorgio c'erano parecchi prigionieri tedeschi e austriaci e quelli presi dalla malaria gialli e spolpati li vedevamo seduti sull'argine dell'arrone con le spalle a qualche eucalipto una volta capitò a loro anche il vaiuolo e bruciavano i pagliericci dei morti abbandonandoli alla corrente che a poco a poco li portava fino al mare già mezzi inceneriti e distrutti la dispensa era uno stanzone con il soffitto avvolta e ci stava un'oste con la moglie tutti e due con la malaria al nostro arrivo benché non fosse prudenza perché si attiravano le zanzare accendeva una candela di sego e li infilava dentro il collo di una bottiglia dopo un'ora di attesa quasi al buio le paste nel sugo erano pronte nere di pepe e ne trangugiavamo sempre due piatti per ciascuno non c'era di meglio e bisognava adattarsi il vino grosso e pesante metteva il fuoco nel sangue e benché rimpiangessimo di non avere più gli chianti si buttava giù a litri alle altre tavole dello stanzone stavano i lavoranti della tenuta i pastori e i butteri e sempre arrivava qualcuno con la febbre addosso presa durante la giornata il quale andava a sedersi un poco in disparte verso la porta la poca luce non ci permetteva di scorgere bene i visi e tra le gambe venivano almeno cinque o sei cani randagi che non erano mai gli stessi l'oste era sgarbato e svogliato e per farlo rispondere bisognava ripetergli la domanda più di una volta pareva che gli mancassi un pezzo di testa dietro e la fronte a forza di stringersi era riuscita ad essere piccola quanto una noce la moglie magra e cerea legnosa non aveva fiato di reggersi in piedi e quando era stata costretta ad aiutare lui si risiedeva subito muovendo gli occhi attorno ai piedi come fanno quelli che non ne possono più dalla stanchezza tanto lui che lei non ci guardavano mai anzi non guardavano nulla e parlavano solo quando non potevano farne a meno soltanto l'oste di quando in quando con qualche conoscente malediceva maccarese e gli rispondeva un sospiro della moglie i pastori erano più loquaci e avevano sempre da raccontare quante pecore erano morte durante la giornata con la pancia scoppiata per aver bevuto acqua cattiva i butteri entrando appoggiavano dietro la porta le aste con le quali a cavallo picchiano gli armenti quando si sbandano avevano gli stivali fin sopra i ginocchi e compravano avendo più denari da spendere il cacio al libre i lavoranti stavano a tavola con il capo giù il collo irrigidito i gomiti stesi e le mani allacciate insieme si mettevano fermi a quel modo specialmente dopo aver mangiato e non aprivano mai bocca altro che per dolersi della fatica e del disagio ogni tanto il grido di qualche civetta sopra un eucalipto faceva volgere la testa verso la porta restava l'ultimo tratto di strada fino alla stazione ed era già buio la luna sottile e larga esciva di tra gli olmi nebbiosi e rischiarava abbastanza e io provavo non poco dispiacere a dover salire in treno perché non mi importava più nulla di roma e mi aveva fatto bene quella giornata senza nemmeno ricordarmi della letteratura e dei libri michele abramic si volgeva verso la luna e scotendo con una mano i soldi di rame dentro una tasca con l'altra le mostrava un piccolo priapo di bronzo che aveva trovato in certi scavi era un rito pagano poi la guardava tutto soddisfatto e beato e a quel chiarore gli vedevo brillare gli occhi nella faccia rosolata dal sole mi diceva tutto esaltato fa così anche tu ma io camminavo di malavoglia e dentro di me studiavo in vano come avrei potuto fare per non tornare a roma le file degli olmi erano più nere della notte e la pianura impiccioliva qualche bosco incendiato sopra una collina bassa scintillava con una giocondità cattiva pareva che la luna mi dicesse perché non torni lungo il mare ti tengo compagnia io e tra un passo e l'altro rimpiangevo di sapere che il giorno dopo qualcuno mi avrebbe ricordato la mia triste ambizione come lungo il mare tutto mi era apparso inutile e fastidioso come mi avevano fatto pietà e schifo gli scrittori giornali e i libri giunto a casa non potevo pigliare sonno in un incubo bollente rivedevo le bufale le vipere i ramarri e mi pareva di volare come un uccellaccio incontro a qualche montagna innalzata dal mio pensiero ma andavamo anche sul monte soratte scesi dal tramvai alla stazione di santoreste prendevamo su per una oliveta scura e immobile addossata sotto il macigno crudo tagliente prima bisogna arrivare al paese di santoreste le cui case hanno lo stesso colore della pietra dove stanno a picco su una vallata che si stende a perdita d'occhio per entrare in paese bisogna avarcarne la porta ma c'è una tabella di legno dove scritto è vietata l'introduzione e la circolazione degli animali suini nell'interno del paese perciò noi ci guardavamo sbigottiti e restavamo di fuori ci si ficcava invece dentro la trattoria che è di fianco le pareti hanno un colore turchiniccio e in fondo dietro il bancone padronale c'è il busto in gesso di vittorio emanuele secondo tra due grandi corna di bue e sopra una messola verde sovraccarica di bottiglie e di scatole da conserva lo stesso prima non risponde poi borbotta sottovoce scappando poi intende attraverso e alla fine data un'occhiata che vorrebbe divorarci vivi si decide a cavare la voce e allora si capisce che è una burbera molto buona e tranquilla fatto uno spuntino e prese le provviste comincevamo l'ascensione del soratte dura un'ora o poco più ma noi la facevamo anche in meno non badando a qualche sdrucciolone o a qualche ginocchiata l'aria si fa più leggera quasi ad ogni passo e la vallata del tevere dalla parte opposta a quella dove siamo saliti fino al paese comincia a spiegarsi senza usura dinanzi a una meravigliosa vista di montagne e sono tante che per avvedersi di tutte senza saltarne nessuna bisogna guardarle a una per volta ma più che si guardano e più se ne scoprono e ognuna sembra desiderosa di essere la più bella il cielo e l'aria vi stanno sopra come se avessero paura di toccarle e solo il vento s'arrischia almeno a sentirselo passare rasente gli orecchi a andare fino là senza perdere la strada il soratte durante l'estate è tutto fiorito le ariche rosse escono dai buchi della selce e qualche volta ci sono anche certe campanule pallide che si attorcigliano come ghirlandette testucchi e leccinani a cespugli crescono sul fianco del monte dalla parte del tevere e il loro colore si incupa di mano in mano che scende giù nella vallata insieme con il mentastro e la nepitella l'ombra del monte è così grande che il sole si stende soltanto di là dal fiume che di lassù pare fermo mentre dalla parte di roma e del mare la vallata se è un poco nebbiosa abbarbaglia e luccica in tanti seni di tutte le dimensioni il silenzio fa udire quel che si pensa l'ultima volta che salì le cavalle avevano figliato e pascolavano sul dorso accuminato del monte mi ricordo anche di aver sentito ragliare un asino giù in fondo alla vallata e quel raglio mi sembrò dolcissimo e perfino musicale perché la distanza li toglieva il troppo e lo sgradevole su soratte una volta c'erano quattro conventi uno per ogni punta san silvestro santa maria delle grazie santa antonio e santa lucia ora intero c'è rimasto soltanto quello di santa maria delle grazie e i ruderi di quello di san silvestro il viottolo mena ad essi a metà della salita in mezzo a una boscaglia di lecci c'è una cappellina e dentro lungo le pareti laterali due sedili una croce fatta con il carbone dove dovrebbe essere un'immagine seguitando si vede la cinta del convento di santa maria fatta di sassi a secco sotto una greppaia rossa di rosolacci che non stanno mai fermi e sotto la cinta una pergola di viti che fa ombra a una striscia larga e sbilenca di grano il convento è disabitato da parecchi anni ma c'è andato a stare fra camillo coppini nato a grassina nei dintorni di firenze non è difficile che venga a spalancare la porta senza scarpe e senza calze con la tonaca nera tirata su alla cintola e una falce in mano con la quale era a mietere il fieno quando abbiamo tirato la campanella dopo le prime parole egli dichiara subito di essere un uomo storico cioè un uomo che appartiene ormai alla storia e per convincere butta in terra la falce si ficca le mani in seno e tira fuori il libro che sta componendo il titolo del libro scritto da lui stesso con una penna spuntata e con l'inchiostro di more mature ha questo titolo il trionfo dell'umanità naturale e la distruzione della fisumana dove si trova il proscioglimento della vera filosofia con la vera difesa della vita ovvero sia il tesoro secondo l'epoca e il tempo e per accertare che si tratta di una cosa seria e immortale avverte che l'hanno letto danti e alighieri e cinque o sei altre persone che si accostano a quel calibro ma non basta sempre dal seno cava altri suoi libri di minore importanza che sono come i commentari di quello e allora si capisce perché la tonaca impattaccata e sporca gli stia gonfia sopra la cintola come se fosse pregno il suo viso scarno dove sono soltanto le pieghe della pelle si fa più attento e si illumina gli occhi neri e dolci pigliano un fanatismo vigile e impaziente uno di noi gli chiede che cosa vuol dire fisumana ed egli spiega con energica enfasi la fisumana è la cattiveria degli uomini e io ho trovato il modo di renderla innocua intanto si entra in un praticello erboso in mezzo al quale c'è soltanto un gelso fra camillo ci segue e ci studia per capire che gente siamo passata gli da diffidenza la sua voce si fa più amichevole e si capisce che è una gran voglia di confidarsi ma noi invece secondo il solito abbiamo fame e glielo diciamo egli non se lo fa ripetere due volte entra quasi di corsa dentro il convento per pigliare un tavolino e le sedie poi rispettosamente ma dignitosamente domanda vogliono un bicchiere d'acqua fresca dopo due o tre volte che siamo stati sul soratte è doventato nostro amico e io voglio ricordare una visita più lunga delle solite tralascio l'arrivo e salto al desinare fra camillo mentre stiamo per finire le ultime briciole del tonno frugando tra le pieghe della carta unta ci propone un piatto di insalata si leva da sedere e va all'orticello per entrare deve togliere prima ad una per volta un mucchio di pietre addossate al cancellino sfasciato tra due sassi piatti e incavati dove dovrebbero essere gli erpioni prende un falcetto e comincia a tagliare erba e insalata insieme quando gli pare che basti ci grida ora vado a sciacquare quel che ho preso è inutile protestare che l'erba non ci piace egli ci garantisce che è buona quanto l'insalata e per convincerci se ne mette in bocca una pianta ma l'olio puzza come quello delle macchine quando glielo diciamo resta sorpreso e scontento del nostro gusto con la bocca piena e l'erba mezza dentro e mezza giù per il mento noi non possiamo andare avanti e fra camillo coppini mortificato finisce da solo ogni cosa povero e onesto campa con quel che gli frutta l'orticello e la fetta di terra che coltiva da sé intanto vengono due ragazzini che pasturano le capre fuori della cinta uno tiene per le gambe un falchetto che non ha ancora messo le penne pare involtato in una lanugine grigia e apre il becco spenzolando la lingua gli occhi aperti sbattono ma senza chiudersi e torce il collo come può per guardare verso noi il pastore lo butta sopra un muricciolo e propone al compagno di ammazzarlo lapidandolo per fare la scommessa a chi tira più dritto io dico che non voglio e michele abramic gongolando di speranza che gli accende di più il viso sempre infiammato e gli brilla negli occhi azzurri domanda loro se possono procurargli almeno un litro di latte o una ricotta di qualche chilo i due ragazzi spariscono subito a mungere le capre allora fra camillo piglia il falco e lo mette dentro un secchio dicendo che ce lo friggerà a cena ma noi vogliamo che gli faccia un discorso e ci contenta subito batte le mani insieme e salta sopra un sedile di pietra all'ombra di un leccio tossendo si spurga poi tende un braccio la nostra attenzione silenziosa lo anima e sorride già sicuro che lo dovremo acclamare comincia io fra camillo coppini povero fraticello eremita ho scritto il gran libro della fisumana ed ora dirò due parole alla buona così come mi vengono fissa gli occhi da una parte accanto a sé fa schioccare le dita e il suo viso pare tormentato ma con uno scatto fiero quasi maestoso erge la testa e continua il paradiso di satana il purgatorio di lucifero e il limbo degli uomini temperati come io nel mio pensiero li ho visti più di una volta ma la parola gli manca per ora ed egli ci fa comprendere con un largo gesto esecratorio della mano quel che vorrebbe dire fa una lunga risata perché ha bisogno di tenere i nervi al posto ma l'occhio gli si rischiara le righe della faccia si appianano tutto il viso ha un'aria ascetica le parole vengono con una facondia irruente ed efficace ad un certo punto grida la spianata delle tombe dei re dei regni delle montagne di tutti i vigliacchi che sono sulla terra dovrà assicurare all'umanità il trionfo dei buoni e degli onesti il mio libro è il centro aeroso dell'universo e io frate camillo coppini nutrirò la coscienza di tutti ciò che si vede sulla pianura della terra deve divenire un giorno cenere e polvere meno che cinque cose o bene sei sono eterne la luce del giorno e la notte i venti le acque e la terra il padrone del macchinario del movimento di questo mondo ossia dio la sua parola fantastica chiara e impetuosa ormai ha preso la rincorsa e ci trincia sentenze e ammonimenti dopo averlo applaudito lo portiamo di peso sopra le spalle fra camillo ride a bocca aperta e ringrazia e sappiamo dai suoi occhi che ci è riconoscente di averlo capito e di prenderlo sul serio intanto la metà della giornata è trascorsa e il tevere è sempre raggomitolato nel suo letto di terre incolte per parecchi chilometri lustra a pezzi secondo i suoi giri e una nebbiolina trasparente più di un velo che sia per sparire lo segue fin dove i nostri occhi non vedono più questa nebbiolina è anche ai piedi delle montagne e sembra che riesca a dissolverle perché si giurerebbe che non sono soffici e molli più delle ombre turchine che le nuvole lasciano cadere giù nella vallata ma quando il sole è per discendere le montagne fanno biancheggiare per qualche mezz'ora i loro paesetti e poi con lo sbiadirsi della sera li rinascondono dentro se stesse allora il lago di bracciano sembra uno specchio caliginoso l'appennino umbro indossa un celeste più tranquillo e il gran sasso si schiara non so perché fra camillo ci parla a modo suo della sventura del calvario mentre ci rechiamo dalla punta di santa maria a quella di san silvestro per un sentiero non sempre piano e il vento ci butta quasi in terra sotto a noi tra le sporgenze accuminate dei macigni si intravede il gran precipizio del baratro e fa l'effetto di essere tirati giù a battere la testa ma mentre si sta lì a fare queste considerazioni un falco con le ali aperte viene a oscillare lentissimamente nell'aria e poi si ferma guardando meglio nelle lontananze ne vediamo parecchi altri tutti sospesi a quel modo intanto siamo entrati nella chiesa di san silvestro che è monumento nazionale squarciata dai fulmini e dai temporali ogni anno perde qualche pezzo di muro che si sbriciola sulla roccia una volta i pastori ci si rifugiavano con le pecore e ci accendevano il fuoco ma fra camillo coppini ora la tiene pulita e chiusa a chiave scendiamo a vedere e a tastare con le nocche il sasso dove dormiva san silvestro incastrato dentro una grotta buia sotto l'altare dove è stato tolto l'intonaco le pareti sono coperte da affreschi del 300 e la cripta conserva ancora alcuni bassorilievi romanici e dell'antico tempio di Apollo sopra il quale fu eretta la chiesa cristiana da quella cima l'orizzonte è anche più vasto e si vede perfino il monte Amiata al confine del territorio senese stiamo lassù fino a buio fatto dopo che il sole si è lasciato pigliare dentro una ragnaia di nuvole per cena riesciamo ad evitare che fra camillo tiri il collo al falchetto ma mentre mangiamo nel refettorio perché fuori è troppo freddo sentiamo l'uccello lamentarsi con una specie di fischio intasato e sbattere le ali dentro il secchio il refettorio è tutto polveroso con quattro tavolinacci rozzi e tarlati stiamo vicino a una finestrucola inferriata che dà a picco sulla valle un pipistrello si attacca all'architrave e si dondola dovremo mandare giù ma non ci riesce una frittata fra camillo ci ha messo troppo sale e volendola fare con le cipolle ci ha tagliato anche i gambi che sono restati crudi inoltre non avendo più vino ci propone di mettere nell'acqua un poco di aceto come fa sempre lui il buio accresce la paura che la giornata non finisca allegramente e nemmeno a cantare con quanto fiato abbiamo in corpo ci riesce a ridere senza essere troppo nervosi il romito sempre attento se ne avvide e reca due candele accese allora facciamo un ultimo tentativo di baldoria ma il nostro amico resta inquieto lo stesso e noi ci convinciamo che è meglio andare a dormire intanto veniamo a sapere che egli è stato una volta frate laico e andava alla cerca ed ora veste a quel modo per amore all'abitudine ci accompagna in una stanzucola dove non c'esse uno strato di paglia che puzza di topi e di muffa e qualche tarpone nero infatti s'è visto correre su per le scale ma prima che ci stendiamo apre una finestruccia e ci indica roma un bagliore lontano e basta preso sonno senza spegnere le candele infilzate in un ferro a punta ci viene a destare per sbaglio un'ora prima sono soltanto le tre e mezzo ma esciamo lo stesso per avviarci giù alla stazione la nebbia è fittissima e scura e lampeggia proprio all'altezza del convento per non rifare la stessa strada fraccamillo ci fa prendere una scorciatoia scavata giù per la china più ripida del monte non vediamo dove mettere i piedi e ci si aiuta con le mani per non scivolare indietro ma egli va giù a salti aprendo le braccia e facendo rotolare i sassi perché si sentano rimbalzare e battere fino in fondo allora ci piglia paura di cadere a capofitto e prima di muovere il passo cerchiamo sempre di afferrarci a qualche sporgenza o a qualche cespuglio quando il frate non ci aspetta dopo due metri non si scorge più i falchi di mano in mano che scendiamo spiccano il volo e sentiamo ventare le loro ali il frate che pare un lugubre fantoccio nero gesticola e grida poi sghignazza del nostro impaccio a un certo punto crediamo che si debba ammattire anche noi e la china non finisce mai la nebbia pare che ci pesi sulle spalle e proviamo una specie di disperazione e di scoraggiamento i falchi si levano da tutte le parti la selce urtata dalle scarpe fa un rumore secco ed aspro alla fine non resta che da attraversare un lunghissimo prato dove c'è una vacca soltanto e siamo prossimi alla stazione fra camillo ci deve salutare e si duole della sua solitudine ci dice mi troveranno morto come un falco tra mezzo i sassi che cade giù e tutto è finito anche quest'anno conto e spero di tornare a maccarese e al soratte in quanto alla letteratura me ne sto più lontano che è possibile anzi non voglio mai che se ne parli mia presenza nemmeno dagli amici e il mio più forte orgoglio è di sentirmi tutto quanto preso dal lavoro senza mai insozzarmi con i baccherozzoli che vengono da sé a farsi spiaccicare sotto le scarpe grazie